La crisi del settore turistico colpisce anche chi il turismo lo promuove. Le aziende locali piemontesi hanno dovuto fare i conti con cali del 75-85% nei primi mesi del lockdown, una parentesi a rialzo nei mesi estivi, ma un secondo crollo con il secondo blocco imposto dal DPCM. Alex Sala, l'ATL dell'Alessandrino, che raccoglie 74 comuni della provincia, si è ritrovata schiacciata dal calo di arrivi e presenze turistiche. E le uniche novità non sono positive. Le scadenze imposte dalla legge Madia, che regola la ristrutturazione degli accopramenti dell'ATL, impone infatti, per una piena autonomia degli enti, un budget di un milione di euro. E l'ATL locale, pur raddoppiando l'attuale budget da 350 a 700 mila euro, non raggiunge la cifra richiesta. Oltretutto, sul futuro dell'azienda, grava anche la fine del mandato da presidente di Luigi Prati e la sua decisione di non rappresentarsi. A questo si aggiunge poi la proposta del capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Alberto Preioni, di rispolverare il progetto lanciato dal presidente Cirio di suddividere la regione in 5 zone turistiche, Torino e il suo Interland, le montagne del Cunese, Biellese e i laghi della Valsesia, le cune di Alba e Asti e le terre d'acqua al confine della Lombardia, dimenticandosi dell'Alessandrino. L'unica speranza arriva da un incontro via web fra l'assessore regionale Vittorio Appoggio, i sindaci e i vari consorzi di tutela della provincia, che prevederebbe l'accorpamento della TL Alessandrina con quella già in estra fra Alba e Asti, garantendo un ruolo da protagonista a tutti i partecipanti e sommando i 700.000 euro di Alex Sala al 1.800.000 dell'unione fra Albesi e Astigiano.